Partiamo, noi abbiamo il nostro rituale, partiamo con i dati del Covid. Io, diciamo, nelle ultime settimane sono più contenta di darli rispetto anche alle regioni perché sono dati più rassicuranti rispetto a qualche settimana fa quando pure ci siamo visti. Prego Alessio. Sì, perché anche per l'Emilia Romagna il trend è in netto calo. Il totale dei contagiati 27.928, di messi guariti 21.467, i decessi 4.179, al tardo pomeriggio di ieri, quindi non sappiamo se il Presidente ha dei dati più aggiornati, ci sono 31 persone ancora in terapia intensiva. Bonacini, sono numeri di pace? Si può dire che la guerra è finita? Lo potremmo dire solo quando il vaccino sarà a disposizione di tutti i cittadini, certamente però possiamo dire che abbiamo passato tempi e giorni decisamente più drammatici. Tenga conto che io non ho i dati relativi oggi perché ero in Assemblea Legislativa, perché oggi, a proposito di coronavirus, io ho votato quattro mesi fa, sembra passata una vita. Stiamo presentando oggi, approveremo il programma di mandato che abbiamo anche aggiornato alla luce di quello che è accaduto e che ci sta accadendo. Noi abbiamo ormai i pronti soccorso che vedono crollati gli accessi, c'è il crollo dei ricoveri gravi. Voi ricordavate una trentina di ricoverati in terapia intensiva, eravamo a 15 volte tanto poche settimane fa. Noi qui abbiamo triplicato i posti di terapia intensiva in poche settimane, non abbiamo mai portato nessuno fuori dall'Emilia-Romagna. E proprio pochi giorni fa, me lo faccio a dire perché la stampa nazionale si è soffermata molto sull'ospedale di Milano o delle Marche. In Emilia-Romagna, pochi giorni fa con il ministro Speranza e il ministro Boccia, noi abbiamo inaugurato, primi in Italia, 145 nuovi posti, letto di terapia intensiva, 26 milioni di euro di spesa, 6 strutture ospedaliere di 4 città, tra l'Emilia e la Romagna, che rimarranno per sempre. Questo significa che verranno utilizzati se ci sarà bisogno per il Covid, ma sono a disposizione della cittadinanza perché, insomma, come sappiamo, la terapia intensiva, ahimè, serve anche ad altro. Ci sono altre patologie che non sono andate in vacanza nel frattempo. L'ha detto meglio di come l'avrei detta io, esattamente. Sono già a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno per rafforzare i posti letto di terapia intensiva, ma se dovesse tornare, ci auguriamo mai più una pandemia, un'epidemia grave, ci abbiamo fatti o in interi piani degli ospedali o a fianco degli ospedali, perché era inutile, come qualcuno ci suggeriva, fare luoghi lontano dagli ospedali, servono nelle strutture ospedaliere. Dopodiché lei chiedeva dei contagi o meno. Noi siamo stati la regione la seconda più colpita, anche se uno moltiplicasse poi il numero di abitanti non sarebbe esattamente così, ma fa lo stesso. Perché? Perché noi avevamo in pancia il focolaio di Codogno. Codogno, se uno guarda la cartina geografica, è più vicino a Piacenza che agli altri capoluoghi della Lombardia. Chiarissimo. Senta Bonaccini, dopodiché il dato del Covid lo abbiamo esaminato e lo abbiamo preso da tutte le parti e lo abbiamo raccontato nel corso di questi mesi, credo con scrupolo. In questo studio. Oggi però rischiamo di dover affrontare un'altra emergenza, che è certamente l'emergenza economica. Allora io le chiedo, intanto, e siccome ho molte domande le chiedo risposte secche, così almeno affrontiamo tutti i temi. Intanto, le piacciono gli stati generali per capire come ripartire? Non lo so perché non so ancora come sono. Mi piaceranno nella misura in cui, e mi auguro davvero che avvenga, ci saranno misure adeguate per quella che dopo il lockdown sanitario rischia di essere un lockdown economico, come diceva lei. Quindi io mi auguro che ci siano, servono liquidità, accesso al credito, un piano di investimenti gigantesco e straordinario, semplificazione. E allora mi perdoni, visto che lei dice gli stati generali, li vedremo, le chiedo, il piano di Colau le piace? Perché quello immagino che l'abbia visto. No, non l'ho letto ancora. Me lo sono scaricato questa mattina perché poi noi affrontiamo qui tante emergenze su emergenze. Me lo leggerò volentieri, ho letto alcune anticipazioni. Io penso in particolare che laddove chiede maggiore sburocratizzazione, più investimenti sui saperi, ci sono cose secondo me interessanti. Però mi perdoni, visto che stiamo parlando di cose che meritano evidentemente una lettura attenta. Io c'è una cosa che veramente non ho capito, la differenza tra il lavoro che ha fatto Colau e il lavoro che andranno a fare gli stati generali. Vale a dire che mi sembrano pensatoi, magari lo dico male, persone di altissimo profilo e si mettono lì e pensano a come far ripartire il paese. C'è tutto questo tempo per mettere insieme tutte queste persone, settimane e settimane di pensieri e di ragionamenti? O il paese non ha più tempo? Non lo so, guardi, io le posso dire una cosa perché io ho utilizzato uno strumento inedito tra le regioni italiane. Cinque anni fa, appena hai letto la prima volta, noi in pochi mesi scrivemmo un patto per il lavoro e per la legalità che è stato, pensi, sottoscritto da tutte le parti sociali. Sindacati, associazioni di impresa, camere di commercio, gli enti locali, il terzo settore, addirittura le professioni. Abbiamo velocemente ascoltato tutti e poi scritto, anche ascoltato e spiegato. Bisogna fare così perché c'è poco tempo a ragione per prendere misure importanti, alcune delle quali peraltro sono già state delineate anche dal governo, altre saranno delineate dall'Europa. Io credo che la velocità sia una variabile non più indipendente per la politica. Senta, siccome fa parte di questo governo il suo partito, il Partito Democratico guidato da Zingaretti, che ruolo deve avere il Partito Democratico in questa partita? Indicare molto nettamente le priorità. Io gliele ho provate a indicare prima. Per me il Partito Democratico potrebbe tranquillamente utilizzare quella ed è quello che non ho dubbi farà, indicando le priorità. Anche perché nel frattempo, sa che succede, Bonaccini, che si riempiono le piazze, no? Quando io le dicevo, mi spieghi la differenza tra il piano Colau e gli stati generali? Rischiano di sembrare cose un po' distanti dalle esigenze delle persone. Allora, io ho messo in fila due piazze. Una rappresenta, secondo me, il prima. Lei prima diceva, quattro mesi fa ci sono state le elezioni. Sembra una vita fa, se le ricorda le sardine. Noi in redazione ogni tanto ci incrociamo e ci diciamo, ti ricordi il tempo delle sardine? Che sembra veramente una vita fa. E poi ci sono le piazze di questi giorni. Noi abbiamo recuperato una foto delle piazze dei gilet arancioni. Non sono gli unici che abbiamo visto. Mi dice che parabola è quella che parte dalle sardine e arriva ai gilet arancioni, ma ripeto, non sono gli unici che abbiamo visto? Beh, le sardine era la dimostrazione che non c'era solo Salvini e la Lega, come appariva ed era apparso per anni, a riempire le piazze. Ma c'era tanta più gente in questo paese che aveva voglia, questo è stato il grande contributo nel sardine, di una politica non urlata, partecipata, con educazione, con rispetto, e che metteva in campo un'alternativa almeno di pensiero rispetto a quella destra lì. Quelle dei gilet arancioni, posso permettermi di dire però, abbastanza o molto sguaiate, con parole d'ordine e linguaggi violenti che non mi piacciono per niente. Però le vorrei fare una riflessione che credo sia interessante, e non dico condivisibile. Se lei guarda l'affronto dell'epidemia, della pandemia nell'Occidente, prendiamo i sistemi democratici, quali sono quelli più nel dramma? Gran Bretagna, Stati Uniti, Brasile. Perché? Perché li guidano esponenti eletti democraticamente, ma io mi permetto di dire autoritari, uguale populisti. Il populismo per vivere ha bisogno dell'applauso quotidiano, e per prendere l'applauso quotidiano ogni tanto devi raccontare non del tutto la verità. Dopodiché però, per sfidare quel populismo che oggi è in difficoltà, serve, come ha detto lei, che gli aiuti alle persone e alle imprese di difficoltà arrivino presto, altrimenti quelle piazze toglieranno di mezzo i pappalardi, guardi, perché su questo non ne ho dubbio, ma rischiano di portare la politica che torna a urlare, e che chiede, facendo leva sulla disperazione, sempre un po' di confusione. Questo mi preoccupa. Io non so se noi avremo a Pappalardo o al posto di Pappalardo qualcun altro. C'è stata anche una manifestazione di centrodestra, ben più partecipata di quanto non fosse previsto, sempre nelle piazze, a Piazza del Popolo. Allora, il tema è che davanti ad una crisi, che sembra essere una crisi come mai l'abbiamo conosciute prima, davanti ad una crisi di questo tipo, o tu dai risposte vere e immediate, oppure evidentemente il consenso si sposta. Io le vado a cercare altrove le risposte. E io le chiedo, la destra che può venire fuori, lei sulle destre c'ha anche scritto un libro, e ha anche scritto che la destra si può battere, poi lo ha dimostrato, diciamo, in qualche modo. Però io le chiedo, quanto è più insidiosa eventualmente quella destra che può emergere? No, ma certo, ha ragione. Guardi, io ho sempre detto, l'ho scritto nel libro, Salvini è stato molto bravo a raccontare i problemi, molto più della sinistra. Ha fatto un po' più fatica a risolverli quando ha governato, poi governare non è mai facile. Io quello che credo è questo. La destra ha fatto e scesa in piazza, legittimamente, siamo in democrazia, credo abbia, dal mio punto di vista, fatto un errore. Andarci nella giornata che è la festa della Repubblica, che dovrebbe accumulare gli italiani, secondo me, non è che ha pagato. No, ma non solo non mi è piaciuto, non credo abbia pagato nemmeno più di tanto. Quella destra rischia di interpretare i problemi del Paese laddove chi governa vede la destra all'opposizione. Guardi, non è facile però passare da una fase di restrizione. per ritornare, diciamo, a qualcosa che abbiamo già letto. Allora, diciamola così. Eh no, no, aspetti, perché ho la pubblicità di nuovo. Fare presto e fare bene. Dopo la pubblicità voglio capire più precisamente il fare bene. Ma pure il fare presto, va? Pubblicità.